Ben ritrovati della redazione bolognese di TRC. Riapriamo il nostro telegiornale parlando di uno sciopero di oggi dei lavoratori di FedEx TNT indetto dai sindacati di categoria contro il piano di riorganizzazione che prevede 361 esuberi, la chiusura di 24 filiali FedEx e 46 TNT. I lavoratori dell'Emilia Romagna si sono dati appuntamento a Bologna per un presidio organizzato da CGL tra le sede della RAI e i palazzi della regione. Lo ha seguito per noi Camilla Di Collalto. E dall'oggi al domani ci siamo ritrovati, cioè praticamente lasciati a casa. Quello che ci viene a mancare è la sicurezza di un lavoro. I lavoratori di FedEx e TNT oggi hanno incrociato le braccia in tutta Italia per protestare contro il piano di integrazione fra le due società che prevede licenziamenti, trasferimenti e chiusure di filiali. Uno sciopero indetto unitariamente da Filt CGL, Filt Cisle e Will Trasporti a seguito della procedura di licenziamento collettiva di 360 addetti e la chiusura di 24 filiali FedEx e 46 TNT. I lavoratori dell'Emilia Romagna si sono dati appuntamento a Bologna per un presidio davanti alla sede RAI e ai palazzi della regione. Noi riteniamo che un'azienda che ha dei bilanci inutili e che ha fatto un investimento pesante, che per due anni ha goduto, come posso dire, della filiera che esiste in questo territorio e in questo paese, oggi non possa presentarsi in realtà dichiarando degli esuberi e delle chiusure di filiali con dei lavoratori che sono professionalizzati. In regione è stata annunciata la chiusura della filiale FedEx di Forlì e trasferimenti per altri addetti Emiliano Romagnoli in altre sedi che si trasformano di fatto in licenziamenti. Per la filiale di Forlì, dove io sono l'RSA, comporta l'esubero della completa filiale. Quindi noi siamo in 12 persone, padri di famiglia, genitori, mariti. Ci troviamo nella condizione di essere risorsa, prima essere considerati risorsa e poi dal 20 di aprile siamo considerati esubero. Noi siamo qui a dire no a questi licenziamenti che l'azienda dichiarata il 20 aprile e dire no soprattutto a prendere le nostre attività attuali e portarle a esternalizzare, cioè portarle ai fornitori. Grazie. Grazie a tutti